Buona domenica, ben trovati al Consueto Repilogo dei fatti principali della settimana. Cominciamo da lunedì 25 luglio, migranti, ancora sbarchi a Lampedusa, molti minori non accompagnati, tre imbarcazioni approdate all'alba e la Prefettura di Agrigento ha disposto le operazioni di accoglienza, identificazione e trasferimento. Continuano gli sbarchi a Lampedusa dove ad arrivare sono soprattutto molti minori non accompagnati. Tre imbarcazioni sono approdate all'alba e la Prefettura di Agrigento ha predisposto le operazioni di accoglienza, identificazione e trasferimento. La motovedetta CP 327 della Guardia Costiera prima ha soccorso un barchino di 6 metri e poi uno di 10, entrambi salpati da Zuwara in Libia, con 20 egiziani, eritrei, sudanesi e palestinesi. Poi è stato recuperato un altro gruppo di 80 egiziani, siriani, marocchini e bengalesi. La motovedetta e la Guardia di Finanza infine ha rintracciato 22 tunisini, fra cui una donna, su una barca salpata da Sidi Mansoura in Tunisia. L'hot spot di Contrada in Briacola è di nuovo al collasso con 1600 persone a fronte di una capienza di 350 posti. E sono 674 in totale le persone salvate ieri, alcune recuperate direttamente in acqua, da motovedette della Capitaneria della Guardia di Finanza e dalla nave mercantile Nordic, che sono state trasbordate sulla nave 18 della Guardia Costiera per poi arrivare a terra. L'hot spot di Lampedusa è quindi stracolmo con 1500 ospiti e le condizioni di vita delle persone non sono tra le migliori, con temperature elevate e sovraffollamento. Alcuni barchini con migranti sono riusciti a raggiungere direttamente la terraferma, fra Cala Pisana e Molo Madonnina. 123 migranti sono stati trasferiti con il traghetto di linea per Porta Empedocle. Sea-Watch ha segnalato che dopo quattro soccorsi effettuati ieri a bordo, hanno 428 persone, tra cui donne, bambini e una donna incinta di nove mesi e un paziente con gravi ustioni costantemente monitorati dal team medico. E così la donna, con il marito e un bimbo piccolo, con ustioni e i suoi genitori, sono stati portati al poliambulatorio dell'isola. Alla ONG tedesca fa eco SOS Mediterranea. La Ocean Viking ha avvistato un gommone sovraffollato in pericolo nelle acque internazionali al largo della Libia, con 87 persone, di cui 57 minori non accompagnati, e sono state soccorse dalle nostre squadre. Nessuno di loro aveva giubbotti di salvataggio. I sovravvissuti sono raccuditi dalle squadre della Croce Rossa e di SOS Mediterranea. Politica Caterina Chinnici ha vinto le primarie ed è ufficialmente candidata alla presidenza della regione, ma chiede chiarezza sulle alleanze. Credo sia difficile adesso immaginare quell'alleanza sarò chiamata a guidare. Io credo ancora nel campo largo, in un progetto inclusivo. Penso sia questa la strada da seguire, ma è compito delle segreterie di partito decidere. Non spetta a me. Lo dice in un'intervista al giornale di Sicilia Caterina Chinnici, ufficialmente candidata, dopo l'esito delle primarie, alla presidenza della regione siciliana. Finora è stato un impegno enorme, continua la Chinnici, e sento la responsabilità che mi è stata affidata dagli elettori. Non cambierò il mio modo di pormi e di fare politica. Porterò avanti la mia idea di sviluppo sostenibile, pensando soprattutto a giovani. Vorrei che i siciliani possano realizzare le loro ambizioni qui. Per farlo bisogna che il prossimo governo punti sul lavoro, sulle start-up, risolva i problemi di sanità e rifiuti, e poi soprattutto cultura e turismo sono un binomio da valorizzare e integrare, dando spazio ai giovani. Il campo in Sicilia c'è nei fatti. Non lo vogliamo chiamare progressista nel largo? Allora chiamiamolo con il suo vero nome, il campo dell'alternativa musumeci, al disastro al suo governo, all'arroganza, alle clientele nella sanità e alle lottizzazioni di ogni spazio di potere. Lo dice in un'intervista quotidiana alla Sicilia il segretario regionale del PD, Anthony Barbagallo. Il PD è un partito serio. Noi con le primarie abbiamo preso un impegno e non è che si sono fatte perché una mattina il segretario Barbagallo si è svegliato e ha deciso così. Abbiamo tenuto le direzioni regionali a porta aperte, davanti ai giornalisti. C'è stata una trasparenza mai vista, ma c'è stato soprattutto un percorso in questi cinque anni di condivisione di idee e di iniziative sui banchi dell'Ars come opposizione compatta che Musumeci ha provato a silenziare. Il confronto e l'apertura sono ospitabili rispetto a tutti gli interlocutori affidabili che parlano la nostra stessa lingua sui temi più importanti per la Sicilia. Tanto più che alcuni di loro a livello nazionale e regionale, conclude Barbagallo, condividono un pezzo di nostra storia. Renzi e Faraone, Calende e Ferrandelli sono stati tutti candidati nel PD. Martedì 26 luglio, il cammino di Cateno De Luca, candidato sindaco di Sicilia, verso Palermo. Il tour di De Luca ha fatto tappa a Santo Stefano di Camastra per una Sicilia isola della prevenzione e della normalità. E' arrivato stanco e provato dalla fatica nella tarda serata per fare tappa a Santo Stefano di Camastra. Prosegue in maniera stancabile il cammino verso il capoluogo siciliano di Cateno De Luca. Il sindaco di Sicilia, come ama definirsi, da tempo ha intrapreso un percorso per la conquista della presidenza della regione. Ma la crisi del Governo nazionale ha di fatto aperto nuovi scenari e dopo un'attenta analisi insieme al suo staff si è deciso di scendere in campo per la corsa al Governo nazionale. Di necessità virtù, si dice, e questo è stato. Se hanno stabilito a Roma di sciogliere le camere e quindi votare il 25 settembre noi non potevamo permetterci di mandare il nostro elettorato alle urne senza una nostra presenza. Magari si aspettavano questo da Roma e magari anche un election day avrebbe significato per noi una sconfitta sicura. Oggi abbiamo ufficializzato la nostra strategia e stiamo lavorando, anche se questo per noi ovviamente è pesante, però stiamo lavorando ormai su una lista che sarà presente in tutta Italia e che dalla Sicilia già esce con percentuali bulgare. Questo caldo torrido certamente non aiuta questa impresa di Cateno De Luca che instancabilmente sta affrontando le fatiche in maniera quasi naturale soprattutto nel vedere l'accoglienza e il calore che le viene riservato nei luoghi dove fino ad ora è transitato. La genuinità, la spontaneità quell'affetto che va al di là dei ruoli e soprattutto anche quell'amicizia che è indispensabile in questi momenti. Io non sono di ferro, non sono un superuomo sono uno come gli altri probabilmente rispetto agli altri sono una persona caparbia che facendo tutto con amore dà tutto se stesso e quindi mi consente questo di superare le difficoltà e soprattutto di superare anche le fatiche. E questo camminare, questo procedere questa processione che è partita da Fiume di Nisi che ci sta portando a Palermo mi sta regalando tantissime sensazioni di condivisione non solo del percorso ma anche di solidarietà. Bancarotta fraudolenta per favorire il clan mafioso Pillera Puntina a Catania la guardia di finanza ha arrestato un imprenditore. Avrebbe fatto fallire una società per non pagare fisco e creditori facendo transitare le attività in una nuova compagine creata appositamente. Bancarotta fraudolenta patrimoniale documentale con l'aggravante di aver agito con la finalità di agevolare il clan mafioso Pillera Puntina Con queste accuse la guardia di finanza ha eseguito un'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Catania ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti di Giuseppe Consolo. Le indagini svolte dalle unità specializzate del nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Catania hanno riguardato la società fallita TC Impianti operante nel settore della installazione degli impianti di telecomunicazioni il cui rappresentante legale Francesco Marino e i cui soci amministratori di fatto Giovanni Consolo e Massimo Scaglione sono già stati raggiunti da misure cautelari personali e reali emesse al tribunale etneo ed eseguite lo scorso maggio dai finanzieri. Secondo l'accusa gli indagati guidati da Giuseppe Consolo avrebbero costituito una nuova società alla quale sarebbe stato venduto per un prezzo solo fittizio e lontano da quello di mercato il principale ramo d'azienda della TC Impianti. Di fatto la Isitel costituita appositamente avrebbe proseguito l'attività imprenditoriale. Durante questa operazione avrebbero aggravati i debiti della società fallita omettendo sistematicamente il pagamento delle tasse e sarebbero stati fatti sparire libri e scritture contabili allo scopo di non pagare i creditori mentre quella contabilità trovata sarebbe stata manomessa e tenuta in modo da ostacolare la ricostruzione dell'attività economica della società fallita. Le indagini si sono avvalse dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia. Le cui parole sono state riscontrate nell'ambito di indagini che hanno permesso di risalire ai rapporti con il clan Pillera-Puntina. Mercoledì 27 luglio sit-in di protesta a Palermo della CGL Will Sicilia per denunciare l'alto numero di incidenti sul lavoro. Sono dei dati sconfortanti che non ci facciano benesperare anche rispetto al futuro. Siamo fortemente preoccupati dell'incidenza dell'aumento degli infortuni sul lavoro e del costante numero di morti sul lavoro. Abbiamo una necessità in qualche modo di provare a mettere un freno rispetto a questa escalation che in un modo o nell'altro investe i lavoratori e i lavoratrici siciliane. Abbiamo la necessità che la regione intervenga da questo punto di vista soprattutto rispetto alla mancanza di ispettori del lavoro. In Sicilia ci sono sostanzialmente 63 ispettori del lavoro per più di 360.000 aziende dichiarate dalle Camere di Commercio. Ecco, è facile calcolare come è quasi impossibile che ci possano essere dei controlli costanti all'interno delle aziende siciliane. Abbiamo calcolato che mediamente un ispettore del lavoro è nelle condizioni di controllare un'azienda ogni 20 anni. Ecco, questo dato è drammatico e in più aggiungiamo che sicuramente la presenza di ispettori del lavoro non riduce gli infortuni sul lavoro, non cancella le morti, ma molto probabilmente maggiori controlli farebbero sì che le aziende in qualche modo si ponessero maggiormente il compito e l'onere di far rispettare le norme di salute e sicurezza all'interno delle aziende siciliane. Il settore delle costruzioni è uno tra i settori maggiormente colpiti degli infortuni sul lavoro e lo dimostra purtroppo ahimè l'evento tragico accaduto la settimana scorsa al cantiere del Castelbuono di Astrillo. Noi siamo qui davanti all'assessorato proprio per rivendicare questo tema. C'è la necessità di alzare il livello di attenzione sui temi della sicurezza quindi vanno rafforzati i controlli e va rafforzata soprattutto una maggiore formazione da parte dei lavoratori sui temi della sicurezza. Se dovessimo ipotizzare un intervento di uno dei 60 ispettori sul lavoro presenti in organico nella regione Sicilia per il numero di cantieri attivi e non per il numero di aziende attive ma anche lì varrebbero le stesse considerazioni la possibilità di una ditta di poter essere ispezionata sarebbe un'ispezione ogni otto anni sappiamo che la vita media di un'impresa è molto più breve sappiamo che il lavoro in corso di esecuzione è addirittura molto più breve quindi nessuna possibilità di poter essere ispezionate queste ditte. Scommesse online Siciliano collabora con la giustizia e gli accertamenti della Guardia di Finanza di Bologna hanno fatto emergere l'omessa dichiarazione di redditi per oltre 23 milioni di euro Controllo fiscale nei confronti di un soggetto di origini siciliane fiscalmente domiciliato a Bologna oggi collaboratore di giustizia che ha svolto attività di procacciatore d'affari per conto di una nota società di scommessi online omettendo di dichiarare i propri redditi in Italia gli accettamenti eseguiti alle fiamme gialle del nucleo di polizia economico finanziaria di Bologna hanno fatto emergere l'omessa dichiarazione di redditi per oltre 23 milioni di euro e IVA per oltre 5 milioni le somme corrispondono alle commissioni percepite negli anni dal 2016 al 2018 da un agente chiamato in gergo master di un noto bookmaker maltese che ha operato in Sicilia Calabria Lombardia Liguria Emilia Romagna e Marche l'attività ha preso le mosse dalle indagini di polizia giudiziaria condotte dal nucleo di polizia economico finanziaria di Reggio Calabria che anche grazie al supporto fornito dal nucleo speciale entrata del corpo avevano portato all'individuazione sul territorio nazionale della stabile organizzazione occulta del bookmaker estero attivo nel settore della raccolta illegale di scommesse operanti attraverso siti web com gestiti da soggetti riconducibili a diverse organizzazioni mafiose le investigazioni sono state condotte con l'ausilio tecnico degli esperti informatici del nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche di Roma ed hanno permesso di scoprire che il bookmaker estero per la raccolta del gioco e delle scommesse non autorizzate si era avvalso in Italia di una rete capillare di persone coordinate da 28 master tra cui il soggetto controllato in altri termini si tratta di intermediari che hanno operato nelle rispettive aree di competenza al fine di promuovere siti di gioco della piattaforma maltese ricevendo una remunerazione proporzionale alla raccolta illegale di scommesse giovedì 28 luglio beni per oltre 23 milioni di euro confiscati dalla guardia di finanza di Catania John Battista Puccio imprenditore di Vittorio operante nel settore dell'imballaggio dell'ortofrutta ritenuto vicino alla stida i finanzieri del comando provinciale di Catania hanno eseguito un provvedimento di confisca in materia di misure di prevenzione patrimoniali emesso dal locale tribunale nei confronti di John Battista Puccio originario di Vittoria imprenditore operante nel settore dell'ortofrutta in particolare le investigazioni eseguite dal nucleo PEF della guardia di finanza di Catania hanno riguardato sia il profilo soggettivo sia le disponibilità economico-finanziarie nel dettaglio gli approfondimenti hanno consentito di accertare da un lato la pericolosità sociale di Puccio già condannato per reati gravi quali rapina lesioni personali e tentata estorsione aggravata e continuata nonché le numerose evidenze investigative sulla scorta delle quali Puccio è stato ritenuto storicamente vicino alla stida proprio in virtù dell'appoggio derivante da questa vicinanza è riuscito a inserirsi in posizione dominante nel mercato degli imballaggi dei prodotti ortofrutticoli per altro verso la sproporzione tra il profilo reddituale del nucleo familiare di Puccio e il relativo patrimonio oltre che la riconducibilità del complesso aziendale dello stesso ad attività illecite le investigazioni hanno permesso di evidenziare l'incapienza dei redditi di Puccio e della sua famiglia rispetto al patrimonio accumulato e inoltre accertare che le società e imprese individuali a lui facenti capo perante il settore dell'ortofrutto e del packaging siano state frutto della sua condotta illecita che le ha gestite con metodo mafioso incrementandone in tal modo le capacità di penetrazione e condizionamento sul mercato quindi il Tribunale di Catania ha disposto nei confronti di Puccio la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di tre anni con obbligo di soggiorno nel comune di residenza la confisca di otto società e imprese individuali un fabbricato commerciale due auto e un motoveicoli rapporti finanziari intestati o comunque riconducibili a Puccio per un valore complessivo di oltre 23 milioni di euro covid contagi e ospedalizzazioni in diminuzione in Sicilia in calo le quarte dosi di vaccino meno 21% nella settimana dal 18 al 24 luglio si registra ancora un calo nei contagi in linea con la tendenza nel territorio nazionale l'incidenza di nuovi casi positivi è meno 27% con un valore accumulativo di 852 su 100.000 abitanti il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Messina Agrigento Siracusa e Trapani le fasce di età maggiormente a rischio risultano quelle tra i 70 e 79 anni 1.064 su 100.000 abitanti tra i 60 e 69 997 su 100.000 e tra gli 80 e gli 89 anni 934 su 100.000 anche le nuove ospedalizzazioni sono in lieve diminuzione i dati relativi alla campagna vaccinale fanno riferimento al periodo dal 20 al 26 luglio nella fascia d'età 5-11 anni vaccinati con almeno una dose si attestano al 26,92% del target regionale hanno completato il ciclo primario 71.409 bambini pari al 23,1% gli over 12 anni vaccinati con almeno una dose si attestano al 90,65% del target regionale mentre la percentuale di chi ha completato il ciclo primario è dell'89,35% i vaccinati con terza dose sono 2.753.291 pari al 72,24% degli aventi diritto sono invece 1.058.000 le persone che avendo maturato il diritto di ricevere la terza dose non l'hanno ancora effettuata dal 1 marzo è iniziata la somministrazione della seconda dose di richiamo booster la quarta dose nei soggetti over 12 con marcata compromissione della risposta immunitaria e dal 13 luglio è stata estesa agli over 60 dalle persone ad elevata fragilità over 12 perché si è trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla terza dose o dall'ultima infezione successiva al richiamo dal 1 marzo sono state effettuate complessivamente 76.562 somministrazioni di quarta dose di cui 39.625 a soggetti over 80 nella settimana dal 20 al 26 luglio sono state somministrate 14.471 quarte dosi con una media giornaliera di 2.614 somministrazioni rispetto alla settimana precedente si registra una diminuzione delle vaccinazioni in quarta dosi pari a meno 3.859 cioè il meno 21% venerdì 29 luglio a Catania Salvopogliese si è dimesso dalla carica di sindaco per una possibile candidatura alle nazionali sospeso dall'incarico in applicazione la legge Severino per la seconda il 23 luglio del 2020 da parte del tribunale di Palermo per peculato condannato a 4 anni e 3 mesi di reclusione nel processo sulle spese pazze dell'Ars Salvo Pogliese ha presentato le sue dimissioni da sindaco di Catania è stata una scelta molto sofferta e a lungo ponderata scritta in una nota e il momento era già stato individuato ben prima della crisi imprevedibile del governo Draghi le mie dimissioni sono sempre alleggiate fra gli addetti ai lavori e sulla stampa seppure chi le invocava di giorno facesse di tutto per scongiurarle di notte Pogliese era stato sospeso dall'incarico di sindaco in applicazione della legge Severino per la sua condanna il 23 luglio del 2020 da parte del tribunale di Palermo perpeculato a 4 anni e 3 mesi di reclusione nel processo sulle spese pazze dell'assemblea regionale siciliana la giunta resterà in carica fino alla nomina di un commissario che avrà i poteri di sindaco e assessori e che dovrà essere nominato alla regione entro 20 giorni le dimissioni di Pogliese uno dei due coordinatori regionali di Fratelli d'Italia in Sicilia sono giunte nella data ultima per potersi candidare alle politiche del 25 settembre le dimissioni di Pogliese polimizzano i 5 stelle sono un atto che aspettavamo da tempo peccato arrivino con enorme ritardo se è vero ciò che sostiene l'ormai ex sindaco e cioè che è stata una scelta sofferta e non legata a dinamiche nazionali non si capisce perché non l'abbia fatta prima magari restituendo la parola ai cittadini e consentendo di votare nella scorsa finestra elettorale risparmiandoci un anno di commissariamento il PD affida il suo attacco al segretario Angelo Villari e a Jacopo Torrisi dopo aver ignorato per mesi le continue richieste di dimissioni che gli avevamo rivolto dopo aver condannato la città ad un immobilismo in piena crisi covid-19 dopo non aver tentennato nemmeno quando la città è stata seppellita dai rifiuti il nostro ex sindaco si dimette con una pecca lasciandoci per i prossimi mesi nelle mani di un commissario la replica dell'esponente di Fratelli d'Italia Basilio Catanoso le prevedibili reazioni isteriche di alcuni esponenti politici di Sinistra e Cinque Stelle a seguito delle dimissioni di Salvo Pogliese da sindaco di Catania sono solo lo specchio della loro pochezza politica e umana incendi boschivi emergenze in Sicilia ascoltiamo Gerlando Mazza responsabile regionale del sindacato UGL per il corpo forestale l'UGL è in prima linea per denunciare le inadempienze della regione per quanto riguarda la situazione lavorativa dei dipendenti di ruolo del corpo forestale della regione siciliana in questo momento così difficile per i boschi quindi incendi boschivi eccetera naturalmente questo è il risultato di tutta una serie di inadempienze che si sono state nel corso degli anni è quello che le inadempienze spuntano fuori in emergenze come quelle degli incendi boschivi quindi abbiamo carenza di automezzi carenza di personale una manifestazione di interesse per cento agenti non è servita pressoché nulla servono concorsi che non si sa come mai non si riescono a fare autobotti guaste automezzi vetusti l'età che avanza abbiamo circa 60 anni tutti quanti se non di più negli altri corpi di polizia nei vigili del fuoco a 60 anni si va in pensione hanno invece continuano a chiederci di fare questi sacrifici che devo dire sono molto pesanti chi lavora di ramazza flabello come si vuole chiamare o coordinamento delle operazioni di spegnimento sa benissimo a cosa mi riferisco quindi speriamo che il nuovo governo cambi rotta rispetto a quello che c'è stato fino ad ora l'UGL continuerà a fare la sua parte e la farà in maniera incisiva quali sono le proposte dell'UGL le proposte sono che intanto se l'antincendio comincia il primo di giugno partire già dall'inverno dell'anno precedente a predisporre un piano antincendio adeguato non si può come ha fatto recentemente il dirigente generale dopo un mese e mezzo dall'inizio della campagna antincendio primo giugno emanare un decreto di riorganizzazione della macchina antincendio che tra elezioni governo che sta per finire governo che deve arrivare sappiamo benissimo ed è chiaro che non avrà mai attuazione è da anni che dura questa situazione però con il passare degli anni aumenta anche la nostra età e quindi diventa anche pesante molto pesante garantire ai cittadini questo servizio Sabato 30 luglio Cimiteri la giunta comunale di Palermo ha varato un piano per 2 milioni di euro per l'emergenza sepoltura vediamo fin dal giorno del mio insiedimento l'emergenza al cimitero del Rotoli è stata al centro del mio impegno da sindaco non è un caso dunque che la prima delibera di giunta abbia riguardato una delle peggiori ferite di sempre per questa città l'ha dichiarato il sindaco Roberto Galagalla a conclusione della seduta della giunta comunale che ha approvato la delibera per il finanziamento dei lavori di manutenzione degli edifici e delle sue oppolture di proprietà dell'amministrazione nei cimiteri cittadini oltre alla collocazione di loculi ipogei e la riparazione del forno crematorio queste attività permetteranno la realizzazione da 320 a 400 loculi che si sommano gli altri 425 che saranno installati la prossima settimana il finanziamento del progetto è pari ad 1.650.000 euro e fa parte del contributo di 2 milioni di euro che è stato assegnato al comune di Palermo con decreto del dipartimento per gli affari interni e territoriali la differenza pari a 350.000 euro sarà invece destinata per le opere di allaccio della fognatura al nuovo forno crematorio la cui realizzazione è in fase di approvazione in particolare il progetto prevede la riparazione dell'impianto di cremazione per la riattivazione del forno esistente da destinare esclusivamente alla cremazione di bare prive di zinco la modifica delle sepulture gentilizie tipologia A e B concesse e realizzate tra il 2009 e il 2020 a disposizione dell'amministrazione comunale come previsto alla clausola contenuto nei relativi contratti di concessione finalizzata alla tumulazione di una salma che consentirà spazio di 14 cellette ossari da questa operazione il risultato atteso è di recuperare almeno 100 loculi il progetto prevede inoltre lo scavo e la collocazione del prefabbricato pronto per la tumulazione con la possibilità di avere 80 loculi disponibili altri lavori consisteranno nella manutenzione delle cappelle gentilizie acquisite al patrimonio comunale altri lavori consisteranno nella manutenzione delle cappelle gentilizie acquisite al patrimonio comunale recuperando così 140 loculi lo smontaggio delle tensostrutture provvisorie che ospitano la maggior parte delle salme attualmente in attesa di sepoltura le attività di messa in sicurezza opere provvisionali presidi di sicurezza e attività edili finalizzata ad una migliore accessibilità e fruzione del cimitero del Rotoli che è costituito da un'area di circa 20 ettari ed il pronto intervento per la durata di un anno sui cimiteri comunali il presidente del Palermo Dario Mirri in occasione della presentazione delle nuove maglie del club rosa nero all'università commenta l'ipotesi di Eugenio Corini come probabile allenatore della squadra Il tempo è necessario non bisogna avere fretta perché se si affretta spesso si sbaglia quindi vogliamo prendere tutto il tempo necessario naturalmente la parte tecnica della nostra società e del City Football Group sta facendo varie analisi varie verifiche sicuramente non abbiamo fretta non ci vuole fretta perché spesso quando si affretta è più facile commettere errori si commettono comunque però cercheremo di non commetterli Corini è sicuramente uno dei nomi possibili ma non il solo ma a questo proposito proprio immaginando la domanda stavo riflettendo come il Genoa ad esempio l'anno scorso una proprietà internazionale ha scelto un giovane allenatore importante credo tedesco austriaco che ha fatto bene poi la stagione non è riuscita a sistemarla ma credo che nessun tifoso genoano conosceva e oggi è credo tra gli allenatori più amati dalla tifoseria quindi da questo punto di vista il mondo il mercato è un mondo globale grande quindi possiamo guardare sicuramente al passato recente del Palermo ma bisogna guardare soprattutto avanti al futuro a un mondo molto più grande di quello che noi immaginiamo il tempo bisogna fare presto non è una variabile impellente così come le scelte sono scelte che sono state fatte dalla società concordate condivise sicuramente col precedente staff tecnico ma sono tutti giocatori che in qualche modo tutti noi conosciamo vogliamo siamo convinti delle loro capacità quindi non ci sono giocatori ieri ho detto a loro non ci sono giocatori vecchi giocatori nuovi giocatori scelti da qualcuno sono tutti giocatori che oggi hanno la maglia del Palermo quindi da questo punto di vista non siamo preoccupati non credo che Buttaro o Elia non siano capaci di giocare con un allenatore hanno fatto bene nella loro carriera con tanti allenatori diversi è tutto grazie per l'ascolto ancora una buona domenica Grazie a tutti